Su questo ancora non abbiamo delle certezze o delle idee ben precise, è vero che qui con le false cooperative, col caporalato diffuso anche in altri settori, logistica, turismo, abbiamo la riviera qui, in parte anche il badantato, questi rischi di infiltrazione della criminalità organizzata ci sono, rischi di riciclaggio del denaro sporco ci sono, prove non ne abbiamo, certamente c'è un dato che a noi preoccupa e abbiamo sempre denunciato, tutte le volte che siamo andati a denunciare anche dei casi specifici o alla finanza o ai carabinieri o all'ispettorato, l'abbiamo ben evidenziato, tutte queste false cooperative che nascono e poi muoiono, non pagano l'IVA che dovrebbero pagare, c'è una grossa evasione fiscale, non pagano i contributi anche di quelli che sono in regola, a un certo punto smettono, non pagano le ultime mensilità, quindi c'è un'evasione diffusa in questo senso, dicevo, queste false cooperative hanno tutte, quasi tutte la sede legale né veronese, a noi pare che non sia una cosa a caso, quindi pensiamo che in quel territorio magari vestito in giacca e cravatta ci siano dei colletti bianchi, dei professionisti di livello criminale più elevato di questi caporali che sono una cosa intermedia, un anello intermedio e di più alta criminalità siano da ricercare lì, abbiamo visto che finalmente nell'ultima operazione fatta 3-4 mesi fa dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia è stata fatta in Romagna assieme al veronese e gli arresti sono stati in entrambi i territori. Guardia di Finanza e della Polizia